Buonasera e ben ritrovato in un certo appuntamento di incontro. Quest'oggi l'incontro è con Antonio Tenier che è l'autore di questo libro all'ombra del grande faggio del quale parleremo. Antonio Tenieri il cognome tradisce già l'origine perché tu sei di Sospirolo. Sono nato e vivo a Sospirolo. È un cognome tipico di questa zona. Allora nell'anticipazione, nell'introduzione del libro si dice che chi ti ha spinto a fare questo libro ha faticato un po' perché tu non sei molto incline anche se ti piace scrivere e leggere. Sì, è stato difficile finché i racconti rimanevano in casa era tutto più facile. Quando ho cominciato a pensare che potevano essere letti da tanta gente ho avuto un po' di difficoltà. Sia mio fratello che Denis Rambaldi e la poetessa Elenia Stefani che è praticamente quella che ha seguito tutto il progetto mi hanno spinto finché alla fine ho capitolato e avevano ragione loro. E sei rimasto contento? Sono rimasto contento, ho avuto dei riscontri molto buoni perché pensavo che queste storielle così semplici non fossero così accattivanti. In realtà in un periodo così difficile come questo del lockdown queste piccole storielle hanno aiutato a riportare un po' di equilibrio un po' di distensione nella mente. Di questo sono felice. Senti una cosa, dobbiamo andare veloci quindi sappi che ti interromperò. Il Centro Studi Montagna Sospirolese che ruolo ha in questo? Il Centro Studi Sospirolese ha un ruolo importante, è un piccolo gruppo di gente che praticamente ha solo interesse a rimettere a posto i sentieri, a tagliare schianti, a tenere puliti. Perciò sono gente che lavora con passione e in cui io mi sono avvicinato e loro mi hanno veramente spinto quando ho dato l'idea specialmente al signor Sanniti, il vero factotum, il presidente inesauribile. E lui è stato molto sorpreso, contento e felice e mi ha aiutato. Senti, Denis Rambaldi è una delle persone che ha incontrato andando in montagna. Lui scrive questa frase, un buon libro è un'avventura che prima di leggerlo non avevi mai vissuto. Che è una bella frase. È una bella frase, ma Denis Rambaldi è una persona di una consistenza profonda. Io non l'ho mai conosciuto, l'ho conosciuto nel 2018 in una salita verso il Burel e tra di noi è nata un'empatia subito immediata, un'amicizia profonda, anche perché siamo montanari, abituati ai silenzi, alle lunghe escursioni. Perciò non avevamo bisogno di parlare tanto, ci siamo trovati subito e lui è una persona a cui sono fiero di essere suo amico, insomma. Sì, io qui mi sono anche segnato e camminando in amicizia. Parti e dici alcune cose che peraltro chi va in montagna sa. Pian piano raggiunto l'equilibrio tra respirazione e forza muscolare, quindi tutto diventa più facile. Perché uno pensa che tutti siamo dei fenomeni. No, no, no. Invece ci vuole il tempo. Ci vuole il suo tempo. Bisogna preparare la mente alla fatica finché si raggiunge quel determinato equilibrio, che è un equilibrio che ti permette poi di assaporare la pulsazione, la vita, la vibrazione della natura. Tu sei andato al Burel dalla parte forse più facile, come salita, al Bianchette. Sì. Naturalmente bisogna conoscere la strada. Poi dici che durante la discesa diventiamo tutti un po' più loquaci. È una frase che può rasentare la banalità, ma è un dato di fatto. È un dato di fatto. Una volta esaurita la fatica. Sì. Una volta esaurita la fatica vengono fuori le gratificazioni, si vive insieme i momenti passati nella salita. Allora questo è bello. Senti, tu in questo libro vuoi trasmettere l'amore per la vita, per la famiglia, per la semplicità. Sì. La semplicità secondo me sarebbe uno dei valori assoluti, specialmente in questa società, dove continuano a proporci progetti sempre più grandi, più ambiziosi, delle alchimie quasi impossibili. Invece abbiamo tutto portato di mano e basta saperlo cogliere, basta avere la pazienza e guardare attorno. Abbiamo tutto quello che ci serve e anche di più. Nel prologo, incolgo alcuni spunti, poi entriamo in alcuni racconti che sono molto carini. Allora, la prima è che sei un reverse. Sì. Quindi noi si intende per reverse? Reverse è un'espressione dialetale per descrivere una persona un po' schiva e anche magari qualche volta scontrosa. Molto di questo ha aiutato anche il cappello che porta sulle ginocchia, perché quando incontri uno in montagna con un cappellaccio così, un po' di mistero, un po' di apprezzione lo crea. A larghe tese. A larghe tese. E allora all'inizio ci ho un po' giocato, poi è diventato il mio portafortuna. Senza di lui non vado da nessuna parte. Poi tu qui promuovi il fatto che andare in montagna da soli è bello, si sconsiglia però ogni tanto è necessario. È bello perché poi, come ho scritto lì, il silenzio ti aiuta, è determinante per entrare in sintonia con te stesso, per eliminare un po' tutti quei sentimenti negativi che ti accompagnano durante la giornata. Perciò ritrovare quell'essere puro, quell'essere tranquillo all'interno della natura è una cosa... È in sintonia con la natura. Cristina, Elia ed Emilio sono parenti stretti. Allora, beh, Cristina è mia moglie e lei è stata veramente brava perché ha capito le mie esigenze e ogni volta che tornavo a casa mi ha sempre accolto con un sorriso, insomma è una cosa che non è, anche perché le giornate stavo via tanto e posso pensare che chi sta a casa un po' di apprezzione la viva. Comunque ha secondato questa tua passione. Comunque ha secondato questa mia passione. Tornavi un uomo migliore, quindi il suo vantaggio era questo. Sì, speriamo che sia così. E gli altri? Gli altri due sono i miei due nipotini piccolini e cui spero di poter trasmettere questa mia voglia di girare le montagne. E poi passiamo, c'è una poesia che apre tutti i racconti. C'è una curiosità che mi piace sottolineare subito. Tu fai dei racconti e mettila dei personaggi. Poi a un certo momento, verso la fine del libro, c'è un racconto che li raduna tutti quanti, che è una bellissima idea, perché sembravano sparati quei lì cose che non avessero collegamento. Invece molto spesso capita che nella tua vita a volte ci sono dei contatti inaspettati e insperati. Sì, questo è molto importante. Tutti quei personaggi che sono dentro lì li ho incontrati tutti. Dopo ci ho anche un po' ricamato attorno, però sono tutti personaggi reali, sono tutti personaggi che hanno lasciato il segno e quando li ho incontrati ci ho pensato per un bel po' sul ritorno a casa. Ci sono dentro anche gnomi, folletti, ci sono dentro un po' di tutto, però questi non li ho mai incontrati. Però ho avuto sempre il piacere di pensare che ci fossero. Sì, chi va ha poi questa sensazione, a volte ha anche un po' di paura, sentire dei rumori che ti sembrano strani. Poi la natura riserva queste sorprese. Sì, sì, sì. Animali che fanno dei rumori che non potevi supporre o gli alberi che si muovono. Sì, sì, però tendenzialmente il pensiero non mi ha mai allarmato di qualcosa che potesse recarmi danno. Dentro mi sento sempre protetto, mi sento sempre sicuro, perciò non ho mai avuto la sensazione di girare da solo con qualcuno che mi corre dietro con coltello sulla schiena. Ho sempre avuto queste compagnie abbastanza benevole vicino a me. Allora, intanto volevo suggerire come lettura che è un libro che si legge molto facilmente perché sono dei piccoli racconti e quindi prima di addormentarsi o in un momento di pausa ci si può immergere nel mondo che racconta Antonio. E cominciamo con il primo racconto, andremo molto veloci. Qui dimostri che sei un reverse, viene invitato a fare una gita in compagnia che è un dramma per coloro che vogliono andare in montagna e che devi seguire il ritmo di tutti gli altri. E da lì parte una storia. A te proprio andare con i grossi gruppi non piace. No, non è che non piace. Evito l'assemblamento di persone. Ad esempio domenica ero sul cipo dei coi di Oregni, che c'era una piccola manifestazione, eravamo una trentina. Sono rimasto là dieci minuti e poi ho detto a Stefano Saniti, Presidente, scusami non offenderti ma io devo scappare. E sono andato via. Probabilmente sbaglio io, dovrei essere un po' più socievole. Però cerco di apprezzare al massimo tutte queste situazioni che vivo quando sono da solo sulla. E infatti all'inizio di questa gita tu trovi un bivio e decidi che è meglio che tu vada per conto tuo e uno della persona che ti ha invitato dice con te sono venuto due volte in montagna. La prima e l'ultima che è la stessa. Esatto. Ok, da quel momento comincia un'avventura. Ti perdi per i boschi e arrivi in una capanna fatta di lamiere vecchia e scopri che c'è un oggetto curioso. Sì, questo rincio che poi qua da noi... Il rincio sarebbe? Il ronchetto. Il ronchetto. Qua da noi è chiamato ronchetto, però in certe altre, specialmente verso il Trentino è chiamato rincio. Ed è questo piccolo utensile che una volta serviva a tagliare tutto, ad affettare il pane, tagliare il salame, prepararsi gli zoccoli, tagliare il pino mugo. Perciò era un utensile di assoluta importanza. Adesso non serve più niente. E questo rincio, questo ronchetto, è lì chissà da quanto tempo il protagonista, perché parla sempre in terza persona, la maggior parte dei casi, se lo porta a casa. C'è un'altra vicenda che racconteremo dopo, arriva in paese e viene inseguito da un anziano. Sì, che sarebbe stato il proprietario del rincio, che aveva avuto in eredità dal nonno questo piccolo utensile, gli ha detto mi raccomando questo qua. E lui lo ha perso e ha vissuto tutta la sua vita con questo malessere interno per aver perso questo rincio e all'improvviso lo vede al collo di questa persona. E lui rivive, perché è ritornato ad essere padrone della cosa forse più importante della sua vita. Tu dici che questi sono racconti basati in buona parte sulla realtà. Sì, e anche perché questo in qualche maniera fa capire la percezione degli utensili al giorno d'oggi. Una volta gli utensili avevano una profondità assoluta, adesso li prendiamo e abbiamo l'uso e getta, perciò le cose non le viviamo neanche, le compriamo, le buttiamo via. Tu pensi che fanno la pubblicità di una cassettina dove ci sono dentro 130-140 arnesi che costano poco o niente, mentre un rincio poteva essere anche una specie di testamento. E allora per me è rimasta molto dentro profonda questa convinzione di questo tenere, come si dice, a cura tutti questi utensili, perché erano determinati per la vita. Scendendo a valle incontri Amilcare, e Amilcare è un personaggio che esiste veramente, so che tu gli hai cambiato il nome, è quello della bicicletta. Sì, e quello della bicicletta sarebbe Bizabarai, il nome nepalese sarebbe Bizabarai, ed è un personaggio di Sospirolo che mi ha raccontato un po' la sua storia. Ed è stata una storia grande, perché lui è partito da Sospirolo, è andato fino in Nepal in bicicletta, perciò è stata veramente un'impresa ai limiti dell'impossibile. E lui gli si è reso conto che ritrovava un po' dell'antica gente bellunese. Sì, e poi mi è molto piaciuto questa voglia di fare bene col cuore nelle mani, senza domandarsi, senza fare, come si dice, delle equazioni dare per ricevere qualcosa. Lui ha dato in maniera totale ed assoluta, cosa che al giorno d'oggi tendenzialmente qualsiasi scelta che facciamo, la facciamo esclusivamente se ha un profitto quasi immediato, se no ci sembra che non serva. Invece magari le cose che non danno subito un profitto adesso lo danno magari nel tempo. Poi c'è un attacco diretto a coloro che usano il profilo Facebook per rendere noto tutto ciò che fanno. Tu ce l'hai Facebook? Perché molto spesso si critica. Sì, io come ho scritto nel prologo non ho mai lasciato nessun segno del mio passaggio, non ho usato il cellulare. Neanche i libri di vetta? No, non ho mai, ho adoperato macchine fotografiche. Perché mi sembrava, ma questa è una mia convinzione, non voglio andare contro niente e nessuno, è una mia convinzione, non voglio sfruttare la montagna per creare un'immagine o anche per aumentare le mie capacità. Io già dalla montagna ho avuto molto e non voglio assolutamente forzare niente di più. Allora per te questo è un invito a viverla più direttamente, senza viverla per poi doverla raccontare per forza. Esatto, sì. Quindi consideriamo questo libro proprio un'eccezione. Ma insomma, io spererei che non fosse un'eccezione, spererei che molta più gente si avvicinasse alla montagna con umiltà e con rispetto, lasciando a casa i sentimenti peggiori come l'invidia, la cattiveria, la maldicenza, l'ipocrisia, la voglia di immagine, la voglia di emergere che in fin di conti dentro là non serve assolutamente a niente. Poi tu sei una persona che si fa affascinare dalle persone curiose. Racconti di un giorno in cui un uomo sente il peso della famiglia, questo capita, e scappa, prende e va. Decide di prendersi due o tre giorni per conto suo. Arriva in una località e lì trova un signore che sta mettendo a posto il suo orto. Sì. E lì suggerisce, perché non fa il chilometro zero? Sì, e qui entra in gioco un mio pensiero, siccome a me piace molto lavorare la terra, e spiego a questo suo amico che questa terra mi è stata data in eredità e ha permesso di vivere alle generazioni precedenti, come posso io forzare questa terra per aumentare i profitti? Sarebbe totalmente becero e non sarebbe corretto. La terra deve essere usata per quel che è necessario, non per quel che è superato. Punto e basta. Poi camminando incontri un pastore, altra figura affascinantissima, di solitario soprattutto. Sì, ma anche perché la transumanza si porta dietro questo mistero, questo incedere lento e costante, questa vita con gli animali che poi in fin di conti ci ha permesso di vivere, che ci ha dato, come si dice, gli alimenti migliori e che ha permesso alla nostra società di crescere. Adesso pensiamo tutto come a un peso, perché quando incontriamo un greggio ci ferma, sporca la strada, porca miseria, la macchina, perciò è diventata una cosa un po' fastidiosa. Però bisognerebbe pensare che gran parte di quello che abbiamo sulla tavola viene da quella transumanza, da quella vita. Intanto abbiamo visto alcune immagini, siamo quasi alla fine, sono tutti dei Dennis Rambaldi che ringraziamo anche per darci la possibilità. Sì, vorrei anche qua molto ringraziare mio fratello che mi ha aiutato molto, perché senza di loro... Ivan. Sì, Ivan. Per me, diciamo, scrivere è stato abbastanza semplice perché l'avevo dentro e ho tirato fuori quello che avevo dentro. Tutto il resto per me sarebbe stato veleno, no? E rimettere a posto. E poi ho avuto la fortuna di incontrare questa poetessa che sarebbe Stefani Elenia e che lei mi ha dato una grossa mano. E perciò, se da solo non sarei arrivato a questo, su questo non ci sono ombra di dubbi. Beh, comunque poi hai fatto una gran bella cosa, è di molto impatto, è molto emotivo questo libro. C'è una cosa curiosa, tu a un certo momento descrivi di un uomo, potresti essere tu naturalmente, che si rende conto che con la natura possiamo avere un contatto più diretto e abbraccia un albero. La cosa viene notata anche dalla polizia locale perché quest'uomo che gira inginocchiandosi, benedicendo la terra, abbracciando gli alberi e che gira senza documenti, qualche sospetto lo crea. Sì, e che poi gira anche senza telefonino, questo peggiora ulteriormente le... Sì, praticamente i comportamenti, quelli più normali, quelli più naturali, a giorno d'oggi sono visti un po' come comportamenti da stare attenti. In realtà abbiamo un po' stravolto questo modo di esistere, no? E volevo proprio in questo libro, in questo racconto, mettere in evidenza questa cosa qua che... Un'ultima battuta lo facciamo su un personaggio che non conosciamo, perché è la suora superiore probabilmente del monastero di Vedana, la certosa di Vedana, che permette a un uomo di entrare, non si fa mai vedere, però si rende conto che quest'uomo ha bisogno di ritrovare quell'ambiente, perché da piccino lo frequentava. E questo sei tu sicuramente. E questo sono io sicuramente. Ed è successo proprio così, un giorno per un... Non per caso, niente succede per caso, sono entrato in questo monastero e mi sono ritornate in mente tutte quelle sensazioni, quelle emozioni che ho vissuto da bambino quando giravo all'interno del monastero, quando il silenzio regnava sovrano e continuavo a domandarmi, ma come mai tutto questo silenzio? E c'erano i frati allora. E c'erano i frati. Poi nel tempo ho capito quanto importante era il silenzio. In quegli anni lì mi sembrava una cosa... Mi sembrava quasi una tortura. Dicevo, ma come? Perché non parlano? Poi nel tempo ho capito veramente che il silenzio è una delle cose più importanti per riportare equilibrio e armonia nella nostra mente. E se hai anche avuto la fortuna di andare nella biblioteca. E ho avuto la fortuna di andare nella biblioteca. E mi è rimasto proprio quell'odore, quel profumo di cuoio, quella sensazione di cultura grande che c'era dentro, che poi mi ha accompagnato per tutta la vita, perché ho letto per tutta la vita. Però quelle sensazioni mi sono rimaste profonde. Avevo 10-12 anni, perciò non l'ho mai dimenticata. E la storia si conclude con una figura femminile che guarda dalla finestra, non si è mai fatta vedere, ma ha autorizzato questo ritorno. Esatto. Ritorno al futuro, scusate. O al passato, al passato più corretto. Vi ho presentato mai poca cosa, premetto questo libro, di Antonio Teniera all'ombra del grande faggio, che è appunto l'albero che viene abbracciato dall'uomo e che c'è veramente, si trova in una località vicino... Sì, alla Mantra. Alla Mantra, che è una località di Sospirolo. Dove si può trovare il libro? Il libro si trova qua a Belluno, le due zitelle, e poi Agordo, Sospirolo, Santa Giustina, Sedico, da me, se vengono a casa mia, le dico io. Ok. È un libro molto tenero e che potrà far piacere sicuramente a molte persone leggere. Grazie Antonio. Grazie a voi. Grazie veramente. Grazie a voi per averci seguito. Buona serata. Grazie a voi.